Ancora complimenti a Alessandro Dallimonti adesso con il gatto e la bolle di Edoardo Bennato, qui sul nostro palcoscenico. Quanta fretta ma dove corri, dove vai, se ci ascolti per un momento capirai, lui è il gatto e Dio la volpe, stiamo in società di noi. Ti puoi fidar, puoi parlarci dei problemi dei tuoi guai, di migliori in questo campo siamo noi. E' una ditta specializzata, fanno pronto e vedrai che non ti mentirai. Noi scopriamo talento e non sbagliamo mai, noi sapremo sfruttare le tue qualità. Darci solo quattro monete e ti iscriviamo al tuo corso per la ceredità. Non vedi gambe raffare, non perdere l'occasione, se no poi te ne pentirai. Non capita tutti i giorni di avere due consulenti, due impresanti, che si fanno ogni quattro per te. Amarti non perdere, bello firma qua, è un normale contatto, una formalità. Tutti i cedi, tutti i diritti e noi faremo di te un Dio da ripare. Non vedi gambe raffare, non perdere l'occasione, se no poi te ne pentirai. Non capita tutti i giorni di avere due consulenti, due impresanti, che si fanno ogni quattro per te. Quando avresti amare, tu mi ricordi, dove fai? Che fortuna che voglia di incontrare noi. Lui è il gatto ed io la volpe, siamo in società. Di noi ti vuoi e ti dà, di noi ti vuoi e ti dà.